fare il monacus mi potresti aiutare dopo si si ha troppa vita e due coglioni per chellarlo ma cazzo fai a ballare non si può ballare qua eh infatti che VIP ci riesce non ho capito perché poi con la danza dei proci porca miseria ma forse perchè ha messo la danza dei fruci ah tu dici forse perchè ha messo la danza dei proci e poi non ho messo la danza dei proci ma io col cazzo che faccio la danza dei proci ma porco cane quindi a me neanche quella mi fa ma lui è raccomandato cioè premium e premium eh si e a quanto pare sono premium pure io eh come cazzo hai fatto per te un uomo mi sono messo Zittico dove si è messo lui a quanto pare in quel mezzo metro con il resto puoi ballare cazzo sto cazzo di mago stai incominciando a levare un po' troppo cazzo che con le mie sfere levo di più che quando avevo le bronzi cosa fantastica che io sono volato qui senza preoccuparmi nel fatto che ho 22 bocce no perfetto no perché sei bloccata porca no se mi finisce Anna pu pu no come sei sentire grazie grazie a tutti grazie a tutti